Il pannello di gestione Aruba Drive ti permette di modificare in pochi minuti i tuoi documenti di Word, Excel, PowerPoint e diversi altri, grazie all'editor di testo integrato compatibile con Microsoft Office. Ti basta cliccare il documento per aprirlo e da questa schermata puoi formattare e personalizzare il testo utilizzando la barra degli strumenti visibile. Tramite la stessa puoi modificare il testo, impostare il grassetto, il corsivo, puoi aumentare o diminuire la dimensione del testo, allinearlo, inserire elenchi, puntati o numerati. Puoi inserire un collegamento al suo interno, un'immagine, allegare un documento o aggiungere una emoticon. Puoi inoltre ripristinare la versione precedente del file. Non è necessario salvare, in quanto il sistema esegue il salvataggio automatico delle informazioni inserite. Puoi anche condividere i documenti con altri utenti, che potranno visualizzare i file o aggiungere commenti.